Tra poche settimane inizierà ufficialmente la stagione estiva. La Alfonso Signorini e la grande macchina del grande fratello non hanno alcuna intenzione di fermarsi. In queste ore, infatti, hanno preso ufficialmente il via i nuovi casting per la prossima edizione del reality show più conosciuto della tv. Il grande fratello si prepara così a tornare con una nuova edizione a partire dalla prossima stagione televisiva. E Alfonso Signorini, riconfermato alla guida del reality, è attivamente a caccia dei prossimi nuovi concorrenti che saranno ospitati nella spiatissima casa. L'ultima edizione si è conclusa solo due mesi fa ed alcuni dei protagonisti continuano ancora oggi a far parlare di sé. Per la prima volta, nell'ultima edizione, abbiamo assistito alla presenza di personaggi famosi e persone comuni e da quanto pare questa potrebbe essere la formula scelta anche per la prossima stagione. Insieme ad Alfonso Signorini ritroveremo anche l'ultima opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. In attesa di conoscere i nomi ufficiali dei concorrenti, il padrone di casa ha deciso di annunciare in prima persona l'avvio dei casting, lanciando un appello a coloro che decideranno di candidarsi alla nuova edizione del Grande Fratello e svelando le sue intenzioni in merito. Ciao a tutti, quest'anno vorrei conoscervi un po' meglio. Scrivetemi in direct message. Un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così, vi aspetto e, buona fortuna a tutti!